oggi la video intervista di luminanzia è un po strana almeno per le abitudini per le nostre abitudini perché in genere noi parliamo di aspetti della produzione parliamo di aspetti diciamo riguardante le strutture degli allevamenti ma difficilmente diciamo ci confrontiamo con settori che siano diversi a volte percepiti molto diversi oggi è l'occasione di confrontarsi con il dottor luciano calimberti che è il presidente dell'associazione per il designer industriale quindi già penso che voi lettori vi chiederete cosa c'entra il design industriale con la produzione primaria del latte e della carne invece c'entra perché poi c'entreremo un po nel approfondiremo un po questo argomento e luciano calimberti e il diciamo quindi che svolge questa attività c'è molto incuriosito questo torgarimberti così iniziamo a introdurre la nostra chiacchierata quando nel duemila e ventuno alla biennale di valencia nella sezione architettura israele portò la loro stalla diciamo alla biennale questa cosa fu sorpreso io non riusci a andarci però abbiamo fatto un articolo e ci ha già sorpreso come ci ha sorpreso un'altra occasione a me personalmente in occasione della fiera del mobile di milano di qualche anno fa che mi chiesero di parlare in fuori salone del del latte fieno che è una è una nostra sdg per cui dottor carimberti inserutto grazie per la sua disponibilità e ma ci spiega un po che tipo di contaminazione può esserci tra questi due mondi apparentemente così lontani tanto grazie per per avermi invitato per poter raccontare quello che ritengo sia un valore fondamentale per dell'industrial design rispetto alla nostra vita non solo alla produzione specifica io dico spesso che molti settori fanno design in maniera assolutamente inconsapevole e quindi uno dei ruoli dell'associazione è proprio quello di valorizzare questi settori renderli consapevoli e eh renderli partecipe di una narrazione che è orgoglio del del made in italy del paese una delle delle cose fondamentali per chiarire subito quale sono eh qual è il rapporto del design con la produzione di qualunque tipo eh è che il design italiano non si è mai limitato a disegnare la forma degli oggetti eh che peraltro è fondamentale ma a disegnare le relazioni che eh questi oggetti hanno col mercato con le persone con eh i fruitori allora in quest'ottica eh capisce che il sistema di valori che sta dietro queste scelte di fondo è fondamentale quindi l'industrial design è una scelta eh strategica sicuramente ma anche di carattere proprio di definizione di quelle che sono le linee guida per uno sviluppo sostenibile responsabile eh del nostro del nostro paese e del nostro made in italy. Certo. Lui poi c'era un altro aspetto che sono perché è difficile fare questa intervista essendo appunto mondi e linguaggi differenti anche ehm però ci siamo anche accorti di un aspetto la zootecchina sta cambiando molto no perché l'opinione pubblica la sta molto attenzionalizzando e e spesso ci sono anche la presenza di consumatori di persone all'interno degli allevamenti quindi un po' sta avendo fuori un forse è un concetto improprio però di estetica funzionale cioè nel senso che gli allevamenti noi li progettiamo affinché siano estremamente funzionali dove gli animali devono stare nel miglior modo possibile e che questi allevamenti abbiano anche il minore impatto possibile però un po' d'estetica non guasta dottor Galimberti che ne pensa di questo dalla sua esperienza? Ma l'estetica non guasta mai evidentemente poi il concetto di estetica è purtroppo relativo al periodo storico che si vive ciò che era bello considerato bello tanti anni fa oggi lo è meno e viceversa questo è un discorso io però eh trovo trovo interessante eh il il concetto di valore legato all'estetica nel 2015 quando c'è Sv Expo o uno degli argomenti fondamentali era esattamente dare dare il cibo al pianeta e noi come come associazione abbiamo un premio che è il più antico premio al mondo che è il compasso d'oro premio di design la premia istituzionale eh e abbiamo lanciato il tema del food design eh molti designer stessi eh hanno interpretato in maniera assolutamente in chiave estetica questa questa sollecitazione sono presentate delle cose eh stravaganti a dire poco tipo lampadari a forma di banane eh divani a forma di pomodoro allora ci siamo resi conto che la strada era quella sbagliata abbiamo fermato immediatamente la ricerca e abbiamo eh elaborato un manifesto manifesto del food design che mettesse dei paletti un recinto eh a quelli che sono gli ambiti nel quale il designer può intervenire rispetto al food e al suo settore una delle prime cose che è uscito è eh che mh è interpretato il design come un rapporto di filiera che non va quindi semplicemente a toccare uno dei punti ma cerca di toccare tutti i punti quindi da come si coltiva un campo da come si taglia il fieno da come si allievano le eh le mucche eh da come viene trasformato il il prodotto quali sono le garanzie che devono essere date qual è i quali sono i valori di fondo di rispetto di dignità per per il lavoro e soprattutto qual è la parte strategica di un settore straordinariamente interessante come quello del del dell'agroalimentare eh italiano che è uno dei grandi vanti del nostro medinità quindi è stata un'operazione anche di autocoscienza mi passo il termine del nostro settore che certamente è abituato in alcuni campi a affrontare in maniera un po' solo della parte estetica poi certamente una cosa bella è più eh interessante più gradevole eh fa meglio che è una cosa brutta il proprio il rapporto forma funzione soprattutto in un settore così legato alla alla produzione eh intensiva è fondamentale ma eh non è detto che debbano essere per forza eh inespressive queste funzioni e queste forme possono raccontare il sistema appunto di valori che ci sta dietro di rispetto di strategicità e così via. E veniamo a qualcosa di di ancor più concreto anche se questa è la nostra chiacchierata credo che sia estremamente concreta più di quanto uno possa possa percepire e l'associazione arte da mangiare mangiare l'arte eh ha elaborato un bando sono ormai credo sia il terzo anno una cosa almeno all'inizio quando me lo presentarono eh abbastanza strana se vuole per certi versi però intrigante no? Perché alla fine nel concetto arredo per vacchi amici eh è un bando di concorso in cui chi intende partecipare fa delle proposte relativamente ad alcune fasi dell'allevamento per migliorare il più possibile il benessere animale ma devo aggiungere anche per farlo che in modo che sia anche comprensibile l'opinione pubblica e che spesso tra l'opinione pubblica e la produzione primaria c'è proprio una difficoltà di comunicazione di di linguaggio e quindi questo è in questo concorso arte da mangiare organizzato arte da mangiare appunto è coinvolta Cremona Fiere la fiera tecnica internazionale della bovina da latte di Cremona l'ADI cioè l'associazione per il design industriale di cui il dottor Galimberti è il presidente e la sua ovviamente e noi diciamo Ruminanzia come come media partner di quel di questo evento eh cosa l'ha spinto dottor Galimberti a diciamo aderire a questa proposta della della Piluso sostanzialmente ma è in voto a tutti è materialmente quindi. Tanto Ormela Piluso ha un percorso sostanzialmente interessante che tocca l'industrial design in alcuni aspetti laterali ovvero il rapporto con l'arte il rapporto con le esperienze artistiche in generale che diventano insomma assolutamente libere da qualunque vincolo di carattere funzionale. Eh queste queste esperienze artistiche eh erano evidentemente di denuncia sono state di denuncia di eh porre l'attenzione su alcune questioni di fondo eh anche su alcune mancanze del settore. Noi siamo dei progettisti eh e il progettista credo che abbia il dovere di eh non limitarsi alla alla denuncia o alla eh o all'evidenziazione abbia il dovere di proporre delle ipotesi di soluzione. E quindi in questo caso il rapporto tra eh chi conosce bene il mondo e fa denuncia chi è il palcoscenico straordinario che è una fiera internazionale dove c'è un concentrato di esperienze. Noi che possiamo mettere la parte progettuale voi che evidentemente avete il compito di eh raccontare al grande pubblico e agli addetti ai lavori soprattutto eh queste 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 esperienze credo che sia il connubio perfetto per poter fare quel passettino in più da una parte di consapevolezza di essere parte di un sistema e dall'altra parte di migliorare eh gli aspetti. Non c'è niente di peggio che che pensare che visto che si è fatto sempre così continuiamo a far così eh non c'è non c'è futuro così c'è allora noi continuiamo a dire che il futuro si sperimenta quotidianamente anche per noi è una scommessa è una un territorio certamente eh poco frequentato dai 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 designer molto frequentato dalle industrie invece che fanno design come dicevo prima in maniera inconsapevole allora eh fare un punto attraverso un concorso che è la cosa più eh diciamo più spettacolarizzante di tutto sommato mi immagino che arriveranno proposte eh alcune molto concrete altre meno ma eh l'argomento incomincia un passo importante verso una sensibilizzazione eh di un passaggio che credo che sia eh fondamentale. Il compasso d'oro che è il nostro premio non ha mai avuto un eh un tema. Eh da quest'anno abbiamo inserito invece un tema che è sviluppo sostenibile e responsabile proprio perché pensiamo che le tre cose debbano essere eh coordinate. Per far questo abbiamo fatto una riflessione e la riflessione più profonda è che eh l'uomo eh e design, il progettista ha sempre ragionato pensando che l'uomo fosse il centro del progetto con tutti i suoi limiti, con tutte le sue preoccupazioni, ma l'uomo una visione decisamente antropocentrica. Oggi forse eh l'emergenza ambientale, l'emergenza sanitaria fa capire che è un po' limitativa come come punto di vista. L'uomo è certamente importante ma deve essere inserito in una catena molto più vasta di equilibri, dove eh la zootecnia, la produzione alimentare è un fattore fondamentale. Gli animali sono comunque una parte fondamentale del nostro del nostro mondo eh dobbiamo moltissimo la nostra sopravvivenza al eh al rapporto con con gli animali dobbiamo loro eh rispetto e eh una maggiore attenzione eh complessiva. Quindi credo che sia un'opportunità straordinaria eh di eh fare il punto ma guardando avanti. Certo, perfetto. E allegheremo poi a questa a questa video intervista che mi auguro sia solo la prima e non sicuramente l'ultima anche i termini di questo del bando di questo di questo concorso e via via faremo degli approfondimenti. Dottor Galimberti, noi la la ringraziamo per il momento e ci vedremo a brevissimo. Mi auguro anche in presenza. Io sono ringrazio ancora voi per l'entusiasmo, per anche la voglia di esplorare mondi convenzionalmente lontani dal 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 consueto. Devo dire complimenti per il titolo della rivista perché è geniale. Beh se non altro è fuori d'ogni dubbio di che cosa c'è. Assolutamente fuori d'ogni dubbio. Però vede questo è un progetto di design che contiene anche l'aspetto di comunicazione. Quindi complimenti davvero. Grazie. Buona giornata. Grazie ancora. Buongiorno. Buongiorno.